è il caso ad esempio del Leatherman Mood non sto qui a ripetere adesso quali sono tutti gli accessori di questa pinza qual è lo scopo per cui è stata inventata è una pinza fantastica con una vocazione molto specifica ne ho parlato nella live Vitamina e DC ne abbiamo parlato insieme ieri quindi ecco se avete bisogno di altre informazioni vi lascio il link della live dove potete godervi tutto il discorso sulla Leatherman Mood questa pinza specifica per la gestione e la manutenzione delle armi da fuoco Leatherman Mood